Milano, hai colto spunti interessanti? Sì, molto interessante quello che ha detto Giuliano, io lo conoscevo già e devo dire un professionista di alto livello. Mi hai detto che stai per aprire un locale, da dove partiresti? Da quale consiglio? Il marketing sicuramente, sicuramente il marketing è stata la cosa che ho capito che è fondamentale.